Buongiorno, buon sabato mattina e ben ritrovati per questa rassegna stampa, questo appuntamento quotidiano con i giornali, occhio ai giornali appunto. Vediamo prima però il santo del giorno e poi le previsioni del tempo, prima di sfogliare i quotidiani oggi sabato 29 novembre, San Saturnino, Vescovo e Martire, il sole è sorto alle 7.19 e tramonterà alle 16.33. Le previsioni del tempo, insomma, vediamo da soli che non sono eclattanti, però vediamo anche l'evoluzione, la giornata per oggi sabato 29, il cielo è prevalentemente numoloso con temperature e parziali schiarite, precipitazioni assenti, in lieve aumento le temperature e i venti sono deboli e quindi insomma, però vedete c'è la simbologia della nebbia presente su tutta la regione, le previsioni per domenica, domani cambiano radicalmente, vedete anche la simbologia è completamente diversa, molto nuvoloso e nuvoloso, quindi questa è la previsione per il cielo, le precipitazioni deboli inizialmente nelle zone interne, però per diffondersi poi al resto del territorio nel corso del pomeriggio e la simbologia della pioggia è presente quasi su tutta la regione, le temperature sono stazionarie o in lieve aumento. Venti di brezza, insomma leggera, inizialmente orientali, però insomma il mare è poco mosso, vediamo l'evoluzione per lunedì, ecco ricompare un po' la simbologia del sole, cielo nuvoloso con temporanea attuazione della copertura, quindi ci saranno delle schiarite. Saranno presenti però le precipitazioni in forme deboli nella prima parte della giornata, temperature stazionale o in lieve aumento. Passiamo ai giornali e veniamo subito alle pagine del resto del Carlino che in grande evidenza, in primo piano, mette la questione vaccini. Allora il caso del giorno, in primo piano nel Carlino parte allerta sui vaccini antinfluenzali, è stata bloccata una partita in via cautelare. L'Asur stoppa alcuni lotti dopo aver avvertito medici e distretti, così insomma Giovanni Cappuccini, il direttore dell'area vasta 1 del Dipartimento di Prevenzione. La campagna antinfluenzale però va avanti perché il Fluad copre solo il 10% di quelli presenti nel territorio. Cappuccini dice che il Fluad lo usiamo senza problema da tanti anni, è considerato il prodotto più sicuro e migliore, tanto da essere somministrato anche nei pazienti oltre i 65 anni. Quindi insomma che sono pazienti, il paziente anziano è un paziente fragile, è un paziente debole, quindi insomma cautela. Se si usa con loro vuol dire che è dichiaratamente un farmaco sicuro. La questione della scomparsa di Fratelloni, che ha lasciato tutti con grande sgomento, soprattutto quelli che lo conoscevano, è a parlare proprio uno di loro, Silvio Cattarina, che lo ebbe in comunità, sia come ospite che come collega. Igor, le tappe di una vita difficile, era un guerriero e lo sarà ancora. E dice appunto, Cattarina ho perso un amico, rimase con noi un anno e tre mesi, ma del tutto non ci ha mai lasciato, aveva sempre avuto grandi aspettative dalla vita. E qui vedete una foto che lo ritrae, la cerimonia funebre si svolgerà lunedì prossimo alle ore 14.30 alla Tombaccia. Un fatto di cronaca, riportato nelle pagine di peso del resto del Carlino, accoltella al volto un assistente e dice, me lo ha ordinato una voce. L'aggressione è avvenuta nella comunità Narconon del Monte Feltro, in strada Monte Feltro, 25 anni, arrestato. Un operatore di questa comunità dice che questo ragazzo aveva fatto uso di funghi allucinogeni, ma i carabinieri lo hanno intercettato e arrestato. Rimaniamo nelle pagine del resto del Carlino, però per quello che riguarda Fano. Anche qui in apertura la sanità, però con una presa di posizione di operatori è nato un comitato, capofila un ex primario, Antonio Lacettera, dell'unità di lungo degenza. Giù le mani da Marche Nord, ora vogliamo l'ospedale unico e quindi i medici serrano le file e nasce il comitato per una sanità migliore. E quindi l'ex primario Antonio Lacettera, ospedali uniti per una sanità migliore, questo è il comitato fatto da medici, paramedici e professionisti che sono stanchi di ascoltare, proprio virgolettato, testuali parole, le affermazioni strampalate dei politici, così hanno fatto sapere di essere pronti ad unirsi al gruppo a causa di un unico nosocomio tra Fano e Pesaro. Questo è un nucleo iniziale di persone, poi dopodiché ci saranno anche altre adesioni. Quindi scendono in campo gli operatori sanitari per questa struttura che dovrebbe unire Fano e Pesaro. Atti vandalici al Codma, è stato danneggiato pesantemente un capannone di uno standista, sabotaggio al Codma, tagliati i teloni nello stand, vandali in azione tra gli spazi di sapori e aromi che chiude domani. Questo è il telone tagliato in vari punti, non solo qui ma in diversi altri, del ristorante Montecuco, danneggiato dai vandali, che è il ristorante che gestisce la ristorazione di tutto l'evento. Sempre rimanendo in tema di eventi, il Brodetto rischia di scuocersi, appello per salvare il festival, perché come tutte le manifestazioni ha bisogno di fondi, il Comune ha già deciso di stanziare dei fondi per questa manifestazione, però vista l'importanza anche esponenziale che questo festival ha avuto negli anni è salito tantissimo di consenso e anche di rebound mediatico, perché a livello internazionale i media nazionali e la stampa nazionale dedicano grande attenzione a questo festival e quindi per questa settimana viene focalizzata tutta l'attenzione della stampa specializzata e degli amanti di questo genere gastronomico su Fano e quindi questa manifestazione deve rimanere un punto saldo della nostra città, però i fondi servono e quindi in tema di spending review si cerca di fare un po' i conti. Quindi appello di confesercenti e comune a caccia di finanziamenti per questo importante evento che vede Fano protagonista. Allora la scuola, una proposta di Aramis Garbatini perché l'unione di Marotta ha creato qualche scompenso in questo ambito e allora lui dice colmare il vuoto lasciato dal referendum, un nuovo polo scolastico per Fano Sud, il problema qual è? Che il distacco di Marotta ha creato molti disagi tra Ponte Sasso e Torrette e quindi insomma si avanza questa ipotesi per colmare questo gap. Cambiamo pagina testata, anzi andiamo nelle pagine del Corriere Adriatico per quelli che riguardano Pesaro, però qui si apre con la politica e allora fuoco amico come si direbbe in gergo, una regia irrazionale e sconcertante. Stiamo parlando della politica sanitaria regionale che mette a repentaglio i livelli assistenziali della salute. Questo lo dice il PD contro questa politica sanitaria regionale fatta appunto dall'assessore Almerino Mezzolani al quale qui l'articolo del Carlino dice il baccalà potrebbe andare di traverso perché il baccalà perché oggi c'è questo tradizionale pranzo prenatalizio a base di baccalà che si svolge al circolo Arci di Villa Fastigi. Ma poi in casa PD qualcuno non è proprio contento di questa strategia sanitaria e quindi ecco un po' il baccalà potrebbe essergli indigesto. Paura per la comunità, sferà una coltellata al volto di un operatore, il dipendente ferito è un uomo di 50 anni, medicato però all'ospedale ha riportato lesioni guaribili in 20 giorni. Rimaniamo nelle pagine sempre che riguardano Pesaro per il Corriere Adriatico, cronaca, grondaia, una grondaia cade davanti all'asilo, ci potevano essere serie conseguenze, grande paura, l'istituto Raffaello dall'edificio si è staccato un pezzo di ferro di, pensate, mezzo chilo. Fano, la pagina di Fano del Corriere Adriatico punta l'attenzione sugli eventi perché è stato presentato già il programma per l'estate, quindi insomma un po' come avviene anche nelle città limitrofe, Cattolica, Senigallia, che presentano con largo anticipo tutto il calendario eventi per creare una programmazione anche ad albergatori e tourist operator che anche Fano si è messo al pari con questo concetto. Il calendario avvia a febbraio col Carnevale e poi la Fano dei Ceseri che pare torna la Corsa delle Bighe e questo è un evento sicuramente caro a molti, era stato caldeggiato da diverse persone, da diversi enti la Corsa delle Bighe perché fa veramente scena, fa veramente spettacolo, un po' l'elemento distintivo di questa manifestazione. E poi questioni legate all'economia, insomma il Sunia rinnova la protesta e ricorda al Sindaco l'impegno a cancellare l'aumento il prossimo anno, stangata sulle case affittate a canone concordato. L'Imo è quasi raddoppiata dal 4 a 7 per 1000 ma a dicembre si dovrà recuperare anche la quota in più non pagata a giugno. Rimaniamo ancora su questa pagina perché c'era un paio di notizie in basso. Ecco, presentata oggi dall'Associazione Maruzza, un'importante carta per i bambini malati in fase terminale che hanno bisogno di tutte le garanzie, tutte le tutele. Ecco la carta che tutela i diritti del bambino malato, un progetto di un hospice all'ospedaletto per vedere di accogliere l'iniziativa presentata dall'Associazione Maruzza che oggi alle 9 e mezza di stamattina presenta nel centro pastorale di Cesano la carta dei diritti del bambino morente, la carta di Trieste. E poi qui di fianco appunto distacco di Marotta, ridefiniti anche i seggi elettorali necessario in virtù appunto di questo distacco da Fano, ridefinire un po' la configurazione territoriale da 69, oggi sono 67, quindi ci sono novità per 1800 elettori. Pagina di Fano, sempre niente farmaco, salta l'intervento, un paziente era sedato in sala operatoria vuota la confezione del prodotto, parte un'ambulanza medicale del 118 da Pesaro ma il farmaco non andava bene, è stato tutto rinviato. Insomma, quindi emergenza anche in questo settore. Pesaro alla pagina del messaggero, quindi cambiamo testata, vediamo qui i funerali domattina dell'amico Fradelloni che pare fosse rimasto molto deluso dalla tornata elettorale a sindaco ce lo ricordiamo ancora nella sala della prefettura insomma per vedere i risultati. Ospedale, fronte caldo, anche qui a centro pagina nasce un comitato a sostegno dell'azienda struttura unica e poi insomma il fuoco di fila del PD per l'integrazione peso-rofane troppe contraddizioni, influenza, bocciati, bloccati i vaccini sospetti in maniera cautelativa nessun rischio segnalato e poi sulla questione lavoro disoccupati le marche scendono all'8,9% quindi un dato in calo. Sgarbi lancia il Leonardo Contestato, presenterà una mostra appunto alla Camera dei Deputati da Vittorio Sgarbi sul Leonardo Contestato, insomma l'uomo di Leonardo. Il museo, il meteo, nubi basse, foschie e nebbie, questo lo dice anche il meteorologo del messaggero. Fiscopoli, insomma il processo alle battute finali che appunto ha provocato un po' di terremoto all'interno della quarta sezione della Commissione Tributaria Provinciale, condanne per 36 anni, 6 ore di riquesitoria in aula per il processo che coinvolge ex componenti della quarta sezione della Commissione Tributaria e quindi anche questa è una questione che si avvia alla chiusura, ancora le pagine del messaggero, ma il tempo in arrivo, quindi avete visto anche le previsioni, non sono incoraggianti, a rischio le tanto vituperate e martoriate mura di cartoceto scatta un piano di emergenza perché insomma sicuramente questo non farà bene provincia, la provincia trova altri fondi per affrontare però l'inverno, il ghiaccio e la neve. Torna la colletta alimentare, oggi iniziativa in 143 supermercati della provincia, vengono distribuiti circa 15 mila pacchi ogni mese, l'anno scorso furono raccolte, pensate, 70 tonnellate di prodotti, anche l'esercito in azione per questa colletta alimentare. Ultima pagina, apriamo quella del messaggero come sempre dedicata a Fano e anche qui foto in grande evidenza per la corsa delle bighe della Fano dei Cesari, però ci potrebbero essere anche delle variazioni sul tracciato, l'anello del pincio non potrebbe essere magari proprio quello, il teatro della corsa e quindi insomma vedremo che cosa si deciderà, però insomma almeno questo è un punto certo, tornano le bighe alla Fano dei Cesari, anche però il festival del giornalismo di Urbino farà tappa in città e in certezza però sulle manifestazioni legate al brodetto il Comune nonostante questo abbia aumentato il suo contributo, però non basta. Di spalla qui un intervento di Stefano Guzzi, l'ex sindaco che contesta il bando che mette a rischio 40 lavoratori, stiamo parlando del bando per le mese scolastiche perché nella sua amministrazione erano inserite tutele dei dipendenti che appunto nella scorsa amministrazione erano stati garantiti, lo facevamo ogni volta, dice Aguzzi, invece pare che in questo bando non ci sia alcuna menzione per i dipendenti, quindi se cambia la gestione potrebbero essere a rischio. Grazie per la vostra attenzione, la Rassea Stampa torna lunedì mattina alle 7.45 e questa sera Occhio alla Notizia, questa edizione e anche tutti i video che vanno in onda su Fano TV li potete trovare sul nostro portale che vi ricordo è a vostra disposizione, occhiolanotizia.it Grazie e buon sabato a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.